Ciao a tutti, secondo episodio, ci eravamo lasciati qua dopo quel casino che era successo, la scena che era andata fuori, ero lì che ci leccava, perché ci leccava, se non è una donna, comunque si rivederà in futuro, per me invece erano un uomo perché non c'ho la cupa, comunque probabilmente lo rivedremo in futuro, comunque ce l'avamo lasciati qua, beh fanno andato fuori a giocare, tanto si vede tanto, e a te tanto vai, e niente, questo come vedete è il secondo episodio, speriamo di fare di meno rispetto al primo, perché il primo episodio sono troppo, non ci sono stati danni, cosa che forza, forza, ci saranno sia in questo che nei futuri episodi, comunque detto questo, niente, niente, speriamo che l'episodio possa durare di meno, perché se no diventa troppo migliore per voi, non ci si dovrebbe giocare, e niente, vediamo un po' cosa succede, intanto siamo nella falude, non ci si può nascondere sott'anno, non ci si può nascondere sott'anno, non ci si può nascondere sott'anno, meno male, meno male, meno male, meno male, non sai cosa fa, stai a dire a difficoltà, nooo, c'è spostato, c'è buttato anche qua, qui comunque vai solamente avanti, ma che non deciderò di sistemare all'università, non trovare a uscina, era generale, non c'è una serie, ma che non c'è un'altezza, non c'è un po' la fai, non c'è una fai, ma che non c'è una fai, non c'è una fai, oh, Jessica, ancora una volta, si ancora, c'è scritto, vedete, si trattate la registrazione, registrazione, non la registrazione, non sono sur, tu dovresti avermi amati, tu dovresti avermi aiutato, jesus, scolgmi, c'è qualcosa che luce ecco ecco non è quella lì che si è vista nei primi 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 quando ha detto la zangue si 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 addio cosa è successo? no no questo sono io che l'ho pigiando ai occhi è il metafor non ti senti un conto 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 no no si vede per spazio oh si di fa di fa di muoio uscita non mi agito ma non c'è te boh incredibile io ti pensavo così c'è la never viva 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 qualcosa viva 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 andiamo in là si si muove no se che lo metti a zangue viva 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 ah il gas è venuto da su eh di sicuro l'occhiato non ci spacca chi è? se tu bevo il profano non sono no sono bello camminate un po' anche io vedo che Ma che cosa stai facendo? È stata un po' di più. Però non sei una delle altre. Non era un po' di più. Non è un po' di più. Non è un po' di più. Non si è stato male. Nostra da lui? Ma non è una persona. Non è un po' di più. Ma non è un po' di più. Io vado E' la Giuppa, io sto... Dunque ha detto qualcosa, c'è qualcosa Un discorso con i Bremi Eh, ho visto Sti slozza che l'ha detto Non, non la c'è lei C'è quella di lui E' una cosa che c'è Mi ha detto di andare a le Tau Non c'è lei Non c'è lei Il d'accordo? C'è lei? C'è lei? C'è lei? Si C'è lei? C'è lei? C'è lei? C'è lei? Perfetto Dacciami se è bene Ok, lei è una cosa che fa. Grazie a Deus. Grazie a Deus. Voi, ci saranno dentro. Voi? 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 si ballon e ronci questi anni non vengono c'è Questo è il posto. Dove. Questo è lui. Eh, ci era già un'altra volta. Ehi. Oddio. Ehi. Poveraci. 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 Ah, lui non sta prendendo oggi. Allora, gente. Come ti nasce? Come si vede. voi voi, prepari un ricorsone, vabbè, 1, 2 aspetta, aspetta no, f... ciao, ciao e ti assiste a me e ti assiste a me e come fa a scatto? io perlomeno dovevo andare lì oh, voglia di c'era qualcosa ok, vedi che andrì a me e county scotta si, appiglia, 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 appiglia allora, vabbè vai di là, che se me lo dice? proviamo ad andare di là Eh, si, 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 non ci siamo ancora andati. Aspetta. No, vai, vai. Allora, via, vuole in mezzo. Che si fa? No, fa, voi non l'avete visto perché è tagliato, ma vuole in mezzo. A volte si rivolcano per la velocità del visore e rischereci vedere. Anche noi. No, un'altra volta. Oio! Ma si scende. Ma attenta a lui, eh! Fermati, ferma! Brutto. Attenta a lui, oh! Cos'è brutto, è vero? Cuco! Oh, ma... Attenta a lui perché? Non. No, no. Ma lo dico. Che agisce? Ammattia. Che agisce. Che interagione. Quello comunque lo può spostare, eh! è un'ansia, è un'ansia di gioco si, però prima lo guardiamo no, ma questo è il scemo no, volta sopra, volta sopra va, 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 va sei scemo, e ora se si fa, che fai tot, tot, tot beh, ma tanto l'abbiamo preso qui di cu mi sono preso qui di cu qui? no aspetta, ti serve un qualcosa che meno male non è ma tanto prima può vedere mattina? vai, leggiamo ciao tira, tira, tira bello no perchè devi tirare questa fai si può giocare no bravo vai da lì che lavori si ha scapito vai da lì che lavori devi no, non so dove è il primo vai da lì che cifo ma le l'hanno tirate di due ai boh ai boh ai boh ai boh ai boh ai boh ma da lì comunque io direi di concludere l'episodio lì poi mi metto di sotto se mi succede nulla e fermi la pila però prima dai io direi di concludere l'episodio lì colore il pass non abbiamo preso grandi schizzi no è stato un episodio di transizione meno male insomma e niente detto questo ci vediamo al prossimo episodio il terzo mi auguro che possa succedere qualcosa comunque mi dispiace più di barboli e gay che si è incontrato nel primo episodio e che dice sia donna non è un uomo e niente detto questo ci vediamo poi nel terzo episodio nel terzo episodio fanno presente sempre presente ciao ragazzi ciao 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 ciao